Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonosporZotep Siamo qui nel giorno di Natale, auguri a tutti come state, io sto benissimo Considerato, anche se questo video lo sto registrando molti giorni prima di Natale Ma voi lo vedete di Natale perché io oramai ho imparato a usare questo aggeggio, questa scarrozza Una scarrozza che mi permette di modificare i video ragazzi, di modificare, di editare, mi permette di programmare tutto Quindi grande, bello questa regola della cresma ragazzi, pensate che la cresma manco l'ho fatta Quindi buon Natale a tutti, Natale si è sempre più buoni, però oggi io mi sento di criticare un po' la Red Bull La Red Bull che prende Sergio Perez, sicuramente non la critico perché ha preso Perez Perché Perez non meritava di rimanere a piedi più che altro, partiamo di Formula 1 oggi ragazzi Però Perez non meritava, cioè sì, meritava sicuramente un top team magari per ciò che ha dimostrato in carriera e tutto Di certo non critico la Red Bull per aver preso Perez, ma critico la Red Bull per il semplice motivo Che per l'ennesima volta dopo Kvyat, dopo Gasly sbaglia nel prendere un pilota Quindi insomma ragazzi sono ennesi, ennesi, cioè questo è l'ennesimo talento bruciato, quello di Albon Quindi insomma ragazzi sono un po' scettico, sono un po' scettico Perez sicuramente non doveva restare a piedi, ma così come non dovevano restare a piedi Hulkenberg e Magumisen Cioè ragazzi il fatto che la Racing Point ha mandato via Perez per prendere Vettel È un qualcosa un po' di insensato Certo Vettel è un quattro volte campione del mondo Magari può servire per far crescere Stroll Però mazza, cioè se devo mettere Vettel vicino a Stroll È come mettere, che cazzo ne so, Pelé vicino a Boh, qualcuno che simula e che non fa mai un cazzo Che ne so, Balotelli Vabbè con tutto il rispetto per Balotelli, bravo ragazzi Però insomma ragazzi, Perez non doveva restare a piedi Però comunque non ha fatto chissà di eccezione nel carriera È un grandissimo pilota Rispetto a uno Stroll, a uno Sun Honda, ad altri piloti che sono in griglia Sicuramente meritava più Perez di essere in Formula 1 Però io do questa mia impressione Perez è un po' troppo gonfiato Nel senso, noi non potremo mai sapere quanta buona stagione ha fatto Perez Perché è in squadra con Stroll Quindi il fatto di battere Stroll e di non battere un pilota degno di questo nome comune di persona Mi fa un po' dubitare ragazzi Mi fa un po' dubitare E vabbè Poi peraltro c'è da dire che Perez in carriera ha ottenuto 11 podi Senza avere un top team Perché l'unica volta che ha avuto un top team non ha fatto manco un podio Ma perché quell'anno non era esattamente un top team Parlo della McLaren nel 2013 Lui nel 2011 è arrivato in Formula 1 Ho ottenuto qualche risultato quelli Nel 2012 poi con la Sauber ha fatto tre podi Nel 2013 poi la McLaren Da 2014 ha avuto la Force India Dove ha sempre battuto il compagno di squadra Tranne quando c'era Hulkenberg Quando c'era Hulkenberg Una volta l'ha battuto lui Una volta l'ha battuto Hulkenberg E una volta sono arrivati tipo a pari punti Una cosa del genere Quindi insomma con Hulkenberg se l'è giocata Quando ha avuto un gran pilota a fianco Quando ha avuto Ocon Che comunque era un buon pilota Ma non ai livelli di Hulkenberg Secondo me Quando ha avuto Ocon Se l'è giocata più sul Quando ha avuto Ocon Se l'è giocata più magari sul Sulla esperienza Ecco perché Perez Gli è arrivato davanti Non di tanto Ma ha battuto Ocon Due anni su due Poi è arrivato Stroll Chiaramente Stroll è un pilota Molto molto più semplice da battere Ragazzi Quindi insomma in qualche modo Se l'è cavata Ma non potremmo mai sapere Il suo reale valore Perché quest'anno Con la macchina che aveva Poteva fare sempre poti Almeno a detta di molti piloti Ora dobbiamo capire Perché poi dobbiamo capire No? Come diceva Pinotto Quindi insomma Perez Io lo vedo bene Perché comunque è un buon pilota Ti porta esperienza Ed è sicuramente Più forte di Albon Però far rimanere Albon Non sarebbe stata una scelta Chissà quanto è sbagliata Io fossi una Red Bull A sto punto Avrei fatto rimanere Gasly Certo Chi non l'avrebbe tolto dal sedile In quel momento Gasly Ma considerato che Albon Ha fatto più o meno Gli stessi risultati Parla del 2020 Perché nel 2019 Gasly era una cosa Che faceva cagare E un'altra cosa Era Albon Gasly si è comportato Da pilota di Red Bull In 3-4 gare Albon si è comportato Da pilota di Red Bull In tutte le gare Tutte le gare È arrivato davanti A Racing Point Davanti a Renault Davanti a McLaren Faceva il compitino Faceva a sesto ogni gara Se si ritirava qualcuno Di Mercedes Ferreri Red Bull Faceva a quinto Quindi insomma Il compitino lo faceva Quindi insomma Perez non rimaneva Non meritava di restare a piedi Però come non meritavano Di restare a piedi Neanche Ulkenberg Se non dà Se abbiamo metto Lo stesso punto Poi io l'ho detto Il più adatto al compitino Era Ulkenberg Però vabbè Ognuno ha i suoi pareri Ragazzi Magari Come ho detto Che la Francia vincendo il mondiale Due anni fa Magari Staremo a vedere Tra 5-6 mesi Perez che farà male E magari L'ho avuto ragione io Per una volta Posso sbagliare Non lo so Io quindi Me la rischio così ragazzi Io spero per Perez Perché gli voglio bene Ci mancherebbe Che faccia bene Però sono molto Molto scettico Perché Albono È un ennesimo Tenetto bruciato Non è facile Valutare un pilota Quando lavori con Max Verstappen È molto molto complicato Lavorare con lui Anche perché la macchina È andata più intorno a Verstappen Che a lui Naturalmente E Verstappen per me È il pilota più forte Sulla griglia Quindi insomma ragazzi Ti porta veramente Al limite la macchina Ed è veramente difficile Mettersi al passo con lui Magari l'unico Che per poco ce l'ha fatta È stato Daniel Ricciardo Ma il 70% delle volte Verstappen a Ricciardo Lo batteva E poi Albono Si è messo subito In un top team Dopo 6 mesi di Formula 1 Dove aveva fatto Una Formula 2 discreta Dove aveva fatto terzo 6 mesi in Toro Rosso Comunque discreti Ma inferiori Al compenso di squadra Kvyat È stato messo in un top team Poverino Già ha fatto un qualcosa Di straordinario nel 2019 Nel 2020 Non si è ripetuto E ha fatto una stagione Infatti nel pagellone Di Formula 1 Che uscirà Vi anticipo Che non gli ho messo Un voto Troppo negativo Però comunque Gli ho messo in voto Che è al di sotto Della sufficienza Poi lo andrete a vedere Quindi insomma ragazzi Se avessi messo in un top team È secondo me È stato anche un talento bruciato Ma non per il fatto Che è stato messo subito Per il fatto che adesso Resta a piedi Io l'avrei messo Nalfa Tauri Al posto di Ziononda A sto punto Così si dava la mano Con Gasly Ciao Siamo i due scarti Della Red Bull Cioè poverini Facevano prima A mettere direttamente Su Nondana Vabbè Non sto scherzando Albon che va aggiunto Quindi alla lista Di Gasly e Kvyat Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti